Si è tenuta ieri sera presso il circolo nautico una tavola rotonda sul tema Torre del Greco, il porto che verrà, organizzata da Lions Club Due Torri per promuovere e rilanciare attraverso un potenziamento l'area portuale della città. Il Lions Club Due Torri fa parte del Lions International e si occupa soprattutto di attività di servizio, quindi ha colto l'occasione per presentare questo progetto di rilancio della città. Il porto in particolare noi riteniamo che è un'attività fondamentale perché è un'infrastruttura che sarà un grande moltiplicatore economico e una grossa opportunità per la città, quindi abbiamo chiamato una serie di esperti a confrontarsi. Qual è la mission, qual è la finalità, qual è il messaggio da questa tavola rotonda? Noi vogliamo che sia una speranza per l'economia torrese, che sia l'occasione per un'ulteriore ripartenza della città. Anche dopo il periodo del Covid già l'area del porto è stata piuttosto... ha avuto una buona riqualificazione con una serie di attività, quindi è già una zona viva rispetto al passato. Speriamo che il porto sia l'occasione definitiva per il rilancio della città e di tutto, soprattutto io ho un'idea di un'unica area metropolitana che parte da Portici arriva a Castellammare di Stabbia, quindi il porto potrebbe essere il punto centrale. Il rapporto del Lions Club due torri Torre del Greco con questa città? Il Lions Club è un'associazione di servizio internazionale, quindi noi ci rivolgiamo soprattutto al nostro territorio, che il nostro territorio è Torre del Greco e Torre Anunziata, quindi tutto ciò che per Torre del Greco per noi va bene, è fondamentale. Un porto che per questa città rappresenta anche un richiamo alle sue origini e alla sua storia. Torre del Greco nasce praticamente intorno al porto. Il porto è la ragione stessa della sua attività, sia quella vicina, limitrofa, quella dei pescatori, sia quella lì più lontana, dei pescatori di Corallo. Quindi il porto con tutto l'indotto della cantieristica, del commercio, eccetera, era praticamente la ragione di vita degli abitanti di Torre del Greco. Nel corso dei secoli, si potrebbe dire dei millenni, si è sviluppato da un semplice approdo per le barche, è diventato qualcosa di più. Se voi pensate, durante la guerra qui c'è stato un sommergibile che ebbe la bandiera di combattimento da Torre del Greco, il che significa che i fondali probabilmente erano un po' più bassi dell'attuale. Quali le potenzialità di questo porto per un territorio importante e centrale nel Golfo di Napoli, come quello di Torre del Greco? Il progetto di fattibilità tecnico-economica ha una visione di sviluppo dell'area portuale nella sua complessità, addirittura estendendo i confini dell'area portuale da quelli che noi conosciamo attualmente, quindi il vecchio molo borbonico con la spiaggia che comunemente viene detta Anderrarina, come si dice in gergo locale, addirittura si astende fino a via San Giuseppe alle Paludi. L'intervento è un intervento molto complesso, molto ampio, che si compone di diversi interventi strategici, partendo dalla riqualificazione dell'attuale porto che voi ben conoscete, cercando di farlo riappropriare alla città, quindi un intervento di rigenerazione urbana nell'ambito portuale, fino a creare una nuova darsena che dovrà ospitare la cantieristica navale di sviluppo. Queste sono le due azioni principali, in più si prevede un prolungamento della passeggiata sul molo redentore per arrivare addirittura ad una passeggiata che collega appunto la chiesa di Porto Salvo con l'ingresso di San Giuseppe alle Paludi. Quindi è un intervento molto complesso con strategie integrate di sviluppo. Ritiene fondamentale, importante e strategico quest'area portuale? Più che strategica, nel senso che è un intervento di riqualificazione del territorio che oltre che puntare proprio sull'aspetto demaniale portuale, integra una serie di funzioni con la città, con il centro della città di cui ne ha bisogno fondamentalmente il territorio del greco. Continuiamo con quelli che sono gli incontri che ci chiedono i cittadini e in particolar modo stasera i Lions per capire e comprendere quali sono stati gli atti per quanto riguarda il porto. consegnerò a questo tavolo quello che è la delibera del 4 gennaio, la prima delibera di giunta del 2022 dove mette carta su penna il progetto di fattibilità tecnico economico per quanto riguarda il recupero e valorizzazione dell'area portuale. Io l'ho detto già allora quando abbiamo votato la delibera e lo continuo a dire. Questo è il punto fondamentale di partenza perché non c'era altro atto e questa amministrazione ha fatto sì che quando adesso si parla del progetto porto non parliamo più ma quello c'era forse mi ricordo no, c'è un atto di giunta che è fondamentale. È un atto dove qualsiasi amministrazione che verrà parte da questo atto per quanto riguarda il porto.